Buongiorno a tutti Tanta tanta roba rispetto alla vecchia demo Che avevo giocato Nello scorso episodio abbiamo visto Che non c'è più il boss gargoyle Nel prologo se vogliamo Della demo Ma c'era quel fichissimo leone Sus con la spada Con l'elettricità Che faceva delle mosse molto molto fighe E sinceramente L'ho sconfitto con facilità Perché io continuo a dire Il suo moveset mi ricorda un po' Il moveset del gargoyle Quando fa il salto Che dà una specie di codata Quando ti dà i colpi di testa incredibili Originali erano i colpi con i fulmini L'abbiamo infatti sconfitto al primo try Invece ragazzi Nel finale dello scorso episodio Invece abbiamo iniziato a riaffrontare Il cinghialone Sus E quello sinceramente Ha avuto un upgrade notevole ragazzi Perché quando nella vecchia demo Andavi nella chiesetta E c'era subito il cinghialone Sus Era molto facile Io mi ricordo Credo di averlo sconfitto Nella vecchia demo al primo try Ma era molto più slow Se non ricordo male Questo è molto più veloce Soprattutto fa un fottio di danno Rispetto al vecchio cinghialone Sus Mi pare che dice pure una frase Sus Prima di iniziare il combattimento Fa tipo una mossa Sus E crea l'arena dove non puoi scappare È molto molto più figa ragazzi Ma in generale Ripeto quello che ho detto Nello scorso episodio ragazzi Poi magari ci sono altre sorprese In questa demo Che dobbiamo ancora scoprire Però in generale Il mood È completamente diverso Della vecchia demo E mi piace da morire Cioè ti fa immergere Molto di più Nel mood di Stormagia Mi piace da morire Il fatto che arrivi nel paesino E ci sono gli NPC C'è la missione del topolino Che ti dice di andare Dove ci sono i mulini Sus E poi c'è l'accampamento di topolini Da più un'idea di buoni contro cattivi C'è l'area dopo Che appunto Dobbiamo ancora esplorare Dobbiamo eliminare il cinghialone Insomma c'è tanto da fare E io devo capire Come arrivare in cima alla torre Perché lì ci sono Le altre petine Sus ragazzi Quindi facciamoci un'esplorazione Della zona base Perché secondo me Mi sono perso qualche scala Sus E andiamo avanti ragazzi Gigante Sus Che poi mi chiedo Secondo me Quanto sarà grosso Stommacchia completo Non mi riesco a immaginare Perché vi dico soltanto questo ragazzi Immaginatevi il lavoro Che c'è dietro solamente Questa demo nuova E immaginatevi Stommacchia completo ragazzi Secondo me sarà Un'esperienza mistica E immagino veramente Ci sarà un lavorone Dietro pazzesco ragazzi Io ero già innamorato Della cacchia demo Questa nuova demo È veramente speciale Ripeto perché ti fa entrare Nel mood del gioco Incredibile Non possiamo stare di livello Abbiamo tre piume Non possiamo stare di livello Perché ci servono Questi simbolini a forma di angioletto Sus Ci serve una di quelle Per portare un altro passiva Al nostro Zefino Però io devo capire Come arrivare lassù Sono solito riposare Tra le spighe fuori dal villaggio Ma con un baccano Che si sente ora È impossibile farlo Sono abbastanza convinto Che diceva una frase diversa Nell'altro episodio Il Cicchia con la Seussama È troppo potente Presto moriremo tutti Ok lui dice la stessa cosa Ok Il Duca Visconti Ah sì era lui Quello che potrebbe essere Il mega villain definitivo Sì perché io vi ricordo Questa cosa l'ho detta appunto Nella vecchia demo di Stommachia Il mondo Codoversico di Stommachia Se non sbaglio C'era scritto da qualche parte Che era una versione Con torta di Milano Ci hanno fuso insieme Gli scacchi Un po' di Souls Ragazzi E poi invece di venire fuori Una super chicca Sus è venuto fuori di Stommachia Allora loro Credo che se ci parlo Mi danno ancora dei soldatini Che dovremmo provare a usarli Contro il cinghialone Ah Qui non ci siamo andati Questo cos'è? Un piccolo cimitero Sus? Posso interagire Con queste cose Lapide Kenichi Io volevo solo fare Un palazzo su Blender Claudio Gigi Gidgood Raul Salutava sempre Ma sono i nomi Di ragazzi di Stommachia? Stanno faticando troppo Per fare il gioco E quindi pensano Di morire di fatica E quindi si sono messi Come nome sulla tomba Forse sto viaggiando Troppo con la fantasia ragazzi Sì lo so Dovrei smetterla Ora scenco Sarai mondo Se mondarei lo mondo Ragazzi Sono frasi potenti Da uomini potenti Luca Sogni Speranze E hamburger Tanti hamburger Va bene Pillo designer Allora O sono i nomi Di ragazzi di Stommachia Oppure sono i nomi Di ragazzi Che hanno vinto il contest E sono stati messi in game Io sarei un programmatore Marco Ho già scritto abbastanza Ah carino Ok Dobbiamo continuare a esplorare ragazzi Ci deve essere un modo per salire Allora Lì sopra ci siamo andati Abbiamo trovato il power up Della spada Quindi lì è inutile Ah è vero Qui c'era una porta Ok Voi non potete vederlo Perché ho la webcam Sopra Il simbolo delle Ampolle Essus Passatevi il termine Di Stommachia E le chiavi Ma abbiamo una chiave Che credo abbiamo droppato Nello scorso episodio Da qualche nemico Che però non mi ricordo Quindi possiamo entrare qua Adesso GG Eh si ragazzi Mi sa che ci sia arrivato qua Un topolino che piange Amico Ma quanto dura Ah è stanco Perché È una grande salita Topomaro C'è una barca Ferma laggiù Lo è da un po' in realtà Si è vero C'è una barca gigante Ah Non credere che sarò io Quella da andare a controllare Ok Dopo Girolamo Quell'armatura Chissà Come ha avuto la chiave Se hai strana intenzione Di conviene di pensarci Non c'è nulla qui Solo questo strano oggetto Caduto dal cielo Prendilo se vuoi Non ha portato nulla di buono A questo villaggio Ah Beh Minchia È molto più figo Così che ce l'ho tutti E quattro subito Che poi mi avete detto Mi ricordo Alcuni ragazzi Nella vecchia demo Che io Dissi che Zefio era il mio preferito Il cavallo era Suss Mi avevate detto Ma vi avete detto Che lui Ma soprattutto La torre Erano fortissimi E li dovevo usare di più Usiamo la torre ragazzi Che mi dà l'idea di The Rock Grossa e potente Andiamo ragazzi Allora io voglio riprovare A combattere il cinghialone Tra l'altro dovrebbero aver messo Anche abilità nuove Quindi voglio provare la torre No il moveset No il moveset mi sembra uguale Di lui Si che faceva la tortorina Sus Non lo ricordo E la torre invece Scusami Da quando la torre Quando fa i colpi Fa questi versi Sus Pure il cavallo No il cavallo È il Beyblade Usiamo la torre Contro di loro Voglio vedere che succede Peri della torre Ah evoca Dei pupazzetti La mia idea È prendere un esercito Di questi cosi E andare a combattere Insieme il cinghialone Ok Questi sono fighissimi Ma ciao Mera mia Non vanno giù? Eh sono duri Poi Ok Mi hanno completamente eliminato Il mio esercitino Di pupazzetti Fantastico Voglio vedere Che succede Se faccio un peri Con la torre Al cinghialone Sono stato scelto Sono stato scelto Allora il pupazzetto Fa danno Quello è positivo Dai un po' No Ok Mi fanno malissimo Potrebbe essere Una strategia Quel cinghialotto Ragazzi Sarà duro Ma se vado qua Che succede? L'altra volta Se non sbaglio Abbiamo trovato Anche quella specie Di piccolo mulino Sus che ci seguiva Che era L'accampamento Dei topolini Forse lo dobbiamo Portare qua Ok Qui c'è un po' Di acqua Sus Ok Questo Non me l'aspettavo Un tizio su una barca Ducati sconti Ah è lui Ho una piccola statuetta Che bizzavo Un pezzo Se non fosse Che non ti abili Con la tarpezza Via Di mettere In camera Do letto Non so perché Ragazzi Lo sto leggendo così Ma me lo immagino Che parla tipo così Tutte me Mettono la mia Spazio Davvero spiacevole La mia pacchetta Aveva venerato A questo paesaggio Non mi soddisfa E' un po' Ammesso Ero come te Sei un tesoro Trova benedica Per la mia applicazione Ha proprio bisogno Ah ecco Che serviva Per lui Coraggio Ragazzi L'ho letto Un pochino Più sussa Così tanto Per dargli Un po' Più Di carattere Ok Amico Fermati qui Con me Per un po' Te lo garantisco Tutti i brutti Pensieri Sparare in un baleno Si Ah Con lui Va avanti il tempo Guarda che figliata Fichissimo Qui invece Ah ma qui L'esercito Wow Usiamo la torre Mi piace L'idea che la torre Evoca Gente Aia Aia Ok Vai piccolino Combatti con me Dai Dai Ok 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 abbiamo trovato Un'altra cura Ora abbiamo due cure E un'altra piuma Ok carino Pure questo coso c'era nella vecchia demo Era messo vicino la chiesa sus Del cinghialone Allora eccoci Allora eccoci Allora eccoci L'accappamento De dovini Ok 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 Usiamo il cavaliere va Ok Molto bene Dai Va bene Abbiamo preso La ventolina sus Ora dobbiamo tornare Dal notto amico Pisconti Mi segue lei no? Ok Andiamo amica Ah pure loro? Ah che bella Sorpresa Duro questo eh Questi c'erano nell'arena Me ne ricordo Ok la barca sta lì Andiamo Mori eh Oh 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 Mori Oh E che è? Andiamo di torre Vai torre Dai Ok Ecco Ecco Allora Ok Non è che mi da tante volte Qualche power up Questo coso Eh sì invece Bel power up Grazie mille Te lo sei mai evitato Ecco a te E se ne va Wow E si scoprì Che era il boss finale Della demo Intanto è entrato Nel castello sus Vabbè ragazzi Sicuramente nel prossimo episodio Entremo nel castello Abbiamo una cura in più eh Ok E abbiamo evocato Il pazzetto Facciamoci una bevuta Ok Si è molto più difficile Fare media a sto coso eh Cioè rispetto alla vecchia demo C'è partita Aia E' molto duro Il piccoletto Non è che gli fa tanto male No Se non imparo Il tempismo di sto coso Mi schiaccerà mille volte Sto coso Ah E' un apurito Ah carino Ok Questi gliel'ho fatti bene Ok Fai piccoletti Ok Questi gliel'ho fatti bene Ok Questo è malissimo No no Scappiamo Quello non mi piace Ah Peccato Questo non era male Peccato Questo ho sbagliato io No Che peccato Si può fare Si può fare Evocando i pazzetti Secondo me Ce lo facciamo Tanta roba E poi magari si può sconfiggere In mille modi diversi Può sconfiggere Semplicemente con Perry Con Zephyro Perché lui fa molto più danno No Allora qui possiamo fare Qualche power up Che potrebbe tornarmi utile Fami pensare Livello 2 di Zephyro Dopo un Perry A midair Se attacchi Il pawn Can expel Angevic Projection Questo potrebbe essere simpatico Cioè il livello 2 di Zephyro Com'è il livello 2 della torre invece? Striking An imparare Enemy summon Spire from the ground Carino Questo ti fa Delle spirine da per terra Che fanno male al nemico Sono deciso ragazzi Se fare livello 1 della torre O livello 2 di Zephyro Io farei livello 2 di Zephyro E proviamo Questo nuovo attacco di Zephyro Contro Questo scinghiale Se moriamo Ci riproviamo Con La torre Perché secondo me con la torre Ce la facciamo Allora voglio vedere Come se la cava Zephyro adesso Ok Ragazzi Sbaglio i tempismi di sto coso Che è una meraviglia Una volta ero bravo A fare i peri sto gioco Ok 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 No Sbagliato Errore Errore Malissimo Errore Devi scappare Zephyro Devi correre Dai C'ho la cura Ok Ok E' da vita Ai 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 Peccato Ragazzi alla fine Alla fine Peccato ragazzi Se l'ha vinta questa Al pelo eh Un pochino mi è tornato Il mood del cinghialone E abbiamo preso un altro power up Angelico Allora sicuramente è molto più difficile Il cinghialone di una volta Però un pochino verso la fine Mi era tornato il tempismo Fa molto più danno Sapete qual è la cosa E' che I boss Con il moveset lento Sono Per quanto mi riguarda Più difficili da pergnare Che quelli che ti fanno Sello Tatatatata E lo impari a memoria Infatti nella vecchia arena Gli ultimi boss Che erano molto veloci Io li riuscivo a perare molto bene Quelli più slow Tipo quell'angelo Sus che vi ricorderete Se avete visto quel video Che faceva quegli attacchi Slow Con l'ascia Mi ha fottuto un sacco di volte Perché era slow Capito? Ma è bellissimo il gufo Ma scusami Voglio parlare col gufo Che peccato No Che paura È una boss fight Ma dai Ma io volevo parlare col gufo Che era bellissimo No E' bruttissimo Ma è Ok È veramente inquietante Ti attacca con la bocca Sus Mi piace Io sinceramente Vorrei portare sulla torre Così abbiamo un DPS E un tank Che dite? Possibile che scende solo di notte? Allora andiamo a parlare Con il nostro amico Dobbiamo mettere notte Eccolo qua Mamma mia Quante inquietante Wow Guarda che figo Vediamo quant'è il suo atolo Ah è l'infinito Ok Ok il mio piano funziona Devo portarlo qua Ok Non riesco a vedere niente Sì perché Mi impara i nemici Quindi Il mio piano funzionerà De parte Ok Unlocked Premi LTEX Per usare la torcia Allora Ok Ma è bellissima questa cosa Wow Ha nascosto la torcia Dietro Un mini boss Segreto Vabbè è geniale Complimenti ragazzi Bravi Queste sono le cose Che mi piacciono Volevo raccontarvi Il mio piano malvagio Prima di farlo Ma credo che sia iniziata l'azione prima appunto di finirlo Dato che lì c'era un gruppo di Torrette sus Ho detto, sai che ti dico Se io riesco a portare il gufo laggiù Faccio perennemente perri sulle torrette Evoco i miei minion E insieme uccidiamo il gufo Il mio piano ha funzionato Quindi GG per me Chissà se ci sono altri segreti così Sicuramente vorrei portare a livello 2 A suo punto la torre Perché col fatto che impale i nemici Tanta roba Perché fa pure danna o e Quindi GG Ma è pieno di miniboss Ma mi piace Io volevo andare a vedere Cosa era quello a fare Che sembrava un fiore Ah ma qui è una gran festa Ok Non dico il slime Ok Ok facciamo un po' di danna o e con la torre Ammazza che toro Ah lo posso imparare Ah godo Ok godo Ah qui possiamo andare nel grano Figo Sento qualcuno Sento qualcuno che batte Ok una leva Ok Ho premuto una leva E Sono caduto di sotto da un borrone Io volevo andare a vedere cos'era quella Roba di manine sussa ma Qui c'è roba Ma ciao Sei un fabbro sei Dopo scienziato Molto bene Dopo tanto tempo il mio caporone è finalmente ultimato Ora speriamo nessuno Rubi saltandoci dentro Mentre ultimi preparativi Nooo Ma dai Sei serio? Ma sei serio? Wow È slow Ma secondo me fa del danno importante il bimbo È veramente The Rock questo Haha che fighissimo Allora andiamo a capire cos'è questo affare ragazzi Poi nel prossimo episodio andiamo avanti Non voglio fare tutto in questo episodio Boia Oh ok Boi 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 Ok Buoni Ok Si diciamo che la torre quando impara è un treno Cioè è proprio infermabile amici Scusami E questo coso? Uuuuh Che figo Ok ma posso ucciderlo? Lo so fare? Si posso ucciderlo a quanto pare Si a metà mira Ok Ok Non credo si combatta così questo affare Però Però Diciamo in maniera ignorante L'ho buttato giù Questa cosa non può morire Ah ok Mi ha dato Una piumina Va bene Ok Allora ragazzi Io direi di fermarci qua Alla grande Prossimo episodio Andiamo a vedere Questa è quella affare a forma di fiore E andiamo nel castello incredibile ragazzi Che cosa? Ma poi E ci vediamo nei prossimi episodi Stomaglio Dove uccideremo cose sempre peggiori E non so quale sarà il boss finale di questa demo ragazzi Forse il visconte sulla barca sarebbe fighissimo Tipo I non morti di Elder Ring sulla barca Due alla boss fight finale Vabbè ragazzi Sto viaggiando con la fantasia Ragazzi Che cosa sia con voi E ci vediamo al prossimo episodio Uuuuh E ci vediamo al prossimo episodio